Due equipaggi della sezione volanti sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì in una zona di periferia del capoluogo Nisseno, dopo che dalla sala operativa dei carabinieri era stata diramata una nota di ricerca di un bambino di 9 anni che si era allontanato dall'area condominiale dell'abitazione dei nonni. Stava giocando da quelle parti insieme ad altri coetani, prima di percorrere le vie limitrofe a quando pare per curiosare. Partendo dalla descrizione del bambino e dei vestiti indossati, i poliziotti avviavano le ricerche partendo proprio dalla zona dove era stato visto giocare. Poco dopo il piccolo veniva notato in una strada buia, in lacrime perché si era smarrito, non ritrovando più la strada per tornare dai nonni. Rassicurato, il bambino saliva sull'auto di servizio al riparo dal freddo dove trovava acqua e biscotti in attesa dell'arrivo della madre. Dopo le identificazioni e una foto ricordo, il bambino è stato affidato alla donna, visibilmente commossa e grata nei confronti degli agenti per il lieto fine dopo qualche momento di comprensibile paura.